musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi non ci credo neanche io non ci credo neanche io ma ragazzi finalmente è stato trovato il modo di far girare la pk di android di fortnite su android momentaneamente solo su tutti i telefoni samsung su tutti i samsung ragazzi che cosa mi si mi si mi si blocca dall'emozione raga che cosa dovete fare ragazzi allora allora innanzitutto innanzitutto voglio ringraziare subito natsuo kaminaga che è un ragazzo andate a seguirlo su instagram che è stato il primo che mi ha mandato questo video questa pk voi ragazzi troverete sotto in descrizione il link per scaricare la pk è un file rar non preoccupatevi raga non ha virus ovviamente cioè io non ho messo virus l'ho fatto in live quindi sembra tutto a posto ragazzi abbiamo un video che vi spiega il passaggio da fare è semplicissimo io vi dico subito non mi assumo nessuna responsabilità su tutto quello che potrebbe succedere per i vostri dispositivi lo devo assolutamente dire per tutelarmi ragazzi in teoria dovrebbe essere tutto a posto ma io declino ogni responsabilità ricordatevi quello che state per fare lo fate a vostro rischio e pericolo io ho declinato le responsabilità quindi ragazzi dai qua voglio i 100.000 visual raga qua voglio le 100.000 visual ragazzi mi raccomando ognuno metta un like perché qua ragazzi c'è da avere i brividi veramente mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo ragazzi attenzione così attenzione così questa è la parte del video ragazzi come vedete ho chiesto al ragazzo di registrarmi il suo schermo vi ho fatto installare a z screen recorder come vedete tutto in italiano e lì di fianco ragazzi ve lo ingrandisco ancora di più chi se ne frega dallo sfondo vogliamo vedere fortnite che gira raga chi se ne frega ve lo ingrandisco ancora di più ragazzi eccolo qui andiamo a vederlo e a commentarlo assieme ragazzi dura due minuti e mezzo allora innanzitutto prima di tutto voi scaricate quello che vi ho messo in descrizione e lo installate ok dovrebbe installarvelo senza problemi al momento dell'installazione ragazzi il vostro telefono deve avere almeno 3 giga di memoria chiudete tutte le connessioni dei vostri cellulari ok dopo che ha scaricato il gioco in sé perché questa è una pick up che pesa 90 mega il gioco pesa 2 giga quindi poi chiudete tutte le connessioni lasciate aperto chiudete tutto lui vi apre fortnite ragazzi come vedete ingrandiamolo ancora di più ingrandiamolo ancora di più che si vede bene chi se ne frega se è sgranato ok lui è nella schermata di caricamento a questo punto ragazzi appena la barra del caricamento fa uno scatto appena fa appena fa lo scatto ragazzi voi eccolo qui eccolo qui vedete che lui ha aperto in alto la barra ho bloccato il video vede che lui ha aperto in alto la barra subito ragazzi via la connessione subito via la connessione del wireless ragazzi la togliete subito adesso lui continuerà a fare il caricamento diamogli dei secondi non voglio schippare il video ragazzi non lo voglio schippare perché voglio che voi lo vediate proprio come succederà nel vostro dispositivo attenzione attenzione ok lui arriva fino alla fine se voi tenete la connessione c'è un problema vi dice mi dispiace vai al cratere e vi crasha tutto voi non avete qui la connessione dovreste rimetterla non appena lui chiude finisce il caricamento vediamo se è così infatti nessuna connessione internet vedete lui l'ha appena rimessa vedetela in alto l'ha appena rimessa appena ci dice che non c'è nessuna connessione e qua dovete iniziare a tappare di prepotenza su riprova dopo due volte come vedete ragazzi accesso in corso ci sta a funzionare non lo posso provare io mi chiedo in chat perché non ho un cellulare da 3 giga di ram se non avete 3 giga non ve lo fa fare raga e come vedete ragazzi la magia la magia ragazzi carica fortnite lui bypassa il problema del coso e si apre ragazzi eccolo eccolo abbiamo fortnite sul dispositivo ragazzi guardate 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 a un certo punto lui bypassa senza neanche accorderci è lo shop di oggi raga e quindi non può essere fake raga è lo shop di oggi funziona funziona raga funziona è lo shop di oggi giustamente c'è ancora il pack da fare è entrato con un nuovo account ragazzi che dire è semplicissimo io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questa ci sono anche dei setting che lui sta facendo boh capiteli voi raga non mica capito che cacchio sta facendo lui c'è tutto raga c'è tutto c'è tutto guarda c'è lo shop di oggi c'è lo shop di oggi ragazzi dai like per me iscrivetevi da instagram di natsuho kaminaga mi raccomando ragazzi non si capisce perché ci sia ancora parco giochi nella di nel dispositivo questo è un video che deve scalare la vetta di youtube un like una iscrizione noi ci vediamo in live ciao ciao